Sono Gabri Costa ragazzi, vi ricordate quando a Red Earth vi avevo fatto vedere tutte le scene di Tessa? Adesso guarderete tutte le scene di Leo, questo leone guerriero con la spada e con lo scudo. Ricordatevi che ha una testa da leone e il corpo umano. Vediamo se Leo riuscirà a farcela a compiere questa missione. Con il vostro aiuto ce la potrà fare. Deve mettercela tutta, con tutte le sue forze. Io conto su di voi. Vediamo se le scene sono sempre le stesse. Si va a Savalia e si affronta Hauser, il Tyrannosaurus Rex. Vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Ora voi dovete dirmi se volete tutte le scene di Leo o preferite solo l'introduzione. Fatemelo sapere. Ciao a tutti.